Ciao a tutti, sono Edoardo Svampato, 24 anni, ruolo difensore centrale. Dici qualcosa di te? Vengo dalla Paganese dove ho fatto tre anni in Lega Pro, prima ho fatto altre esperienze in Lega Pro ad Alessandria e a Francavilla e come settore giovanile invece sono cresciuto l'Enchievo dove ho giocato fino alla primavera. Ok, grazie, adesso diamo la parola al vicepresidente Giorgio Schiavo che ti dà il benvenuto della società. Ben arrivato tra di noi, uno dei pochi veronesi che militano nella nostra squadra ma comunque il suo curriculum è molto intenso e molto copioso quindi in conseguenza diciamo che la sua esperienza tornerà senza altro molto utile alla causa dell'Enchievo.